I bambini sono come spugne, assorbono da tutto ciò che li circonda ed è importante che anche i loro pancini ricevano i nutrienti da assorbire per diventare grandi. Il latte crescita Mellin, grazie al programma Precci Nutri, contiene ferro, vitamine e una combinazione esclusiva di prebiotici Goss Foss. E lui sarà pronto per scoprire il mondo. Mellin, liberi di diventare grandi. Grazie.